Ciao a tutti, sono Fabio di Oram di Modena, oggi voglio presentarvi una novità importantissima che riguarda il 2015. Stiamo parlando di una delle aziende nel panorama motociclistico più importanti nella produzione di stivali specifici per la moto e che quest'anno ha attuato una collaborazione importantissima con un altro marchio che è uno dei più importanti al mondo in quello che riguarda la produzione di pneumatici per le moto, cioè parliamo di Michelin. TCX e Michelin per il 2015 hanno presentato delle soluzioni veramente innovative e rivoluzionarie che riguardano una sinergia tra chi produce stivali da tantissimi anni nel migliore dei modi e chi produce pneumatici per le moto ovviamente sempre nel migliore dei modi con tutte le caratteristiche tecniche del caso. Come sappiamo Michelin dall'anno prossimo, cioè dal 2016, sarà il fornitore unico di pneumatici per la MotoGP, quindi rientra anche in quello che è il motociclismo che conta con un grande impegno e sforzo e parte già da quest'anno iniziando delle nuove collaborazioni anche innovative proprio per andare a toccare tutti i segmenti del motociclismo anche nel loro dettaglio. Quello che vi presento è un qualcosa di innovativo, vi dicevo, perché riguarda una sinergia tra Michelin e TCX per quel che riguarda la produzione della suola per lo stivale da moto di TCX. Ovviamente ha in gamma tantissimi modelli, quest'anno ha presentato tre modelli nuovi, rinnovati almeno con una suola molto importante, viene prodotta direttamente dai progetti di Michelin con un compound molto particolare che richiama esattamente quelli che sono i battistrada dei pneumatici prodotti proprio da Michelin per le moto. Il primo modello che vi presento è l'Infinity Evo Gore-Tex che è uno degli stivali più apprezzati dagli appassionati di mototurismo e anche per chi fa dell'off-road leggero, uno stivale fantastico con tomaia in pelle pieno fiore, molto morbido, confortevole e soprattutto ovviamente impermeabile e in questo stivale la soluzione più innovativa e importante nel rinnovamento del 2015 riguarda proprio la suola. La suola di questo stivale è stata prodotta dal centro di ricerca e sviluppo di Michelin con un battistrada che richiama la linea dell'Anaki 3 che è uno dei pneumatici di punta della gamma trail di Michelin. Ovviamente questo tipo di suola nella sua innovazione ha il vantaggio di riuscire a drenare sia detriti che pioggia, che sporco, molto meglio rispetto a tutte le suole tradizionali e al tempo stesso ovviamente offre un grip superlativo e anche una durata e una resistenza nel tempo che sono superiori a tutte le altre suole mai proposte o prodotte da TCX ma anche da altri fornitori. Ovviamente questo stivale lo potete trovare da noi, toccarlo con mano e oltre a questo modello TCX ha presentato altri due modelli che riguardano invece la gamma più stradale. Si parla di due modelli dove la suola è sempre stata prodotta da Michelin su specifica collaborazione proprio con TCX. Parliamo di un modello impermeabile che è l'X-Cube e dell'altro modello invece è l'X-Square che è una scarpa per l'utilizzo più urbana, anche un pochino più estiva. Entrambi i modelli hanno ovviamente nella collaborazione effettuata proprio con Michelin hanno una suola specifica che va a richiamare anche in questo caso un battistrada famosissimo prodotto da Michelin per la moto che è il Pilot Road 4. Questo tipo di suola ovviamente come nel caso anche dell'Infinity riesce a garantire un drenaggio migliore dell'acqua, dello sporco quando si va a appoggiare il pied a terra e al tempo stesso ha una durata e una resistenza all'abrasione estremamente superlative. Ovviamente questi tre modelli sono i primi di una collaborazione nata proprio quest'anno tra Michelin e TCX e sicuramente ci presenteranno anche qualche altra novità per il futuro. Intanto vi aspetto ovviamente in negozio a Modena in via Emilia Est 935 per poterli toccare con mano, visionare, oltre ovviamente a tutto il resto della gamma TCX che non si ferma a quello che può essere la scarpa stradale o comunque lo stivaletto per il turismo e l'enduro ma ovviamente loro producono una gamma molto completa che va dal custom, eventualmente l'utilizzo proprio urbano, fino ad arrivare anche al racing dove sono una presenza molto importante con uno stivale di punta veramente fantastico. Vi aspetto come dicevo in Orama Modena, grazie a tutti, ciao! Ciao!